ragazzi ho una cosa da dirvi quindi seguitemi fino alla fine ma prima prendiamo 300 g di farina di castagne nella quale aggiungiamo 4 g di lievito in polvere per dolci un cucchiaio di spezie questo è un mix di chiodi di garofano cardamomo potete aggiungere anche della cannella o zenzero in polvere fate voi la buccia grattugiata di un limone 50 g di zucchero grezzo e diamo una mescolata ora aggiungiamo due uova 100 g di olio vegetale qui io ho scelto quello di semi ma voi potete usare un altro olio basta che sia dal sapore neutro e ora aggiungiamo anche un cucchiaio d'acqua tutto insieme insomma tutto insieme adesso mescoliamo bene il tutto dobbiamo ottenere un panetto bello omogeneo però non troppo compatto ma il giusto in modo che poi riusciamo a stenderlo bene ci siamo quasi tra poco spostiamo il panetto sul tavolo anzi lo facciamo adesso perché così riusciamo a impastare meglio con le mani quindi impastiamo bene con le mani e praticamente in pochissimi secondi il panetto è pronto bello morbido friabile perfetto ora prendiamo due fogli di carta da forno e spolveriamo uno dei due fogli con della farina di castagne non tantissima prendiamo anche il nostro panetto e lo schiacciamo prima con le dita in questo modo così lo appiattiamo un po poi appoggiamo il secondo foglio schiacciamo ancora un po e prendiamo il matterello chiana avresti dovuto fare il video col cappellino di natale di babbo natale è vero è vero è vero questo è il periodo e non ce l'ho non spiace comunque ho preso il matterello e adesso sto stendendo il panetto dobbiamo ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro poi vi faccio vedere ok direi che ci siamo ecco qua guardate lo spessore né troppo spesso insomma ma neanche troppo fine quindi mezzo centimetro direi che va benissimo ora prendiamo uno stampino per biscotti usate la forma che volete io ho questa e lo mettiamo leggermente nella farina di castagne così il biscotto si stacca facilmente e poi ritagliamo i nostri biscotti questo è il mio punto debole diana lo sai che i biscotti ma penso che sia un po il punto debole di tutti poi questi con la farina di castagne sono veramente veramente buoni ma non è finita qui no ragazzi questo è solo l'inizio non andate via qui abbiamo ottenuto 20 biscotti quindi ora che facciamo prendiamo la punta di una sac à poche con la punta liscia ecco e andiamo a fare dei buchi al centro però soltanto a 10 biscotti poi vedrete perché delicatamente quindi alla metà insomma sì esatto dobbiamo avere dei biscotti pari poi vedrete perché mi raccomando contali e ora prendiamo tutti i biscotti li mettiamo sulla teglia possiamo anche aiutarci con una spatola così non rischiamo di rompere i biscotti perché sono molto fragili quindi con delicatezza li mettiamo sulla teglia ho steso tutto l'impasto e quindi ecco qui i nostri biscotti adesso li inforniamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 12 o 13 minuti mi raccomando seguiteli cercate di non bruciarli e andiamo ragazzi mentre i nostri biscotti cuociono non potevo non farvi un regalo di natale ho deciso di creare un evento online totalmente gratuito nel quale vi svelerò i tre errori più comuni e sottovalutati che in questo momento fate nella vostra alimentazione e nel quale vi parlerò di come godersi il cibo senza il pensiero di stare a dieta tutta la vita questo è un evento gratuito per tutti voi i posti sono limitati e siamo già a più di 4000 persone ragazzi siamo felicissimi siete veramente incredibili grazie di cuore vi lasciamo il link qui sotto nei commenti per iscrivervi potete scegliere una data in cui partecipare ci sono tre date disponibili e non vediamo l'ora veramente di rivedervi lì ragazzi abbiamo appena sfornato i nostri biscotti ma prima di farveli vedere lasciateci un mi piace a questo video e condividetelo così più persone potranno fare questi buonissimi biscotti durante le feste ed ecco qui i nostri biscotti sono pronti mi raccomando fateli raffreddare appena li sfornate e nel frattempo noi ci portiamo avanti perché non è finita qui la ricetta ora in un pentolino aggiungiamo 150 g di cioccolato fondente tagliato a pezzi 120 g di bevanda vegetale scegliete voi di mandorle o di soia il nostro cioccolato è pronto ora prendiamo la base del nostro biscotto quindi quella senza il buco e prendiamo un cucchiaino circa di marmellata di lamponi ma potete usare anche un altro tipo di tipo di marmellata quello che vi piace ora chiudiamo il biscotto e lo appoggiamo su una gratella con il piatto sotto mamma mia diana che voglia di biscotti ma questi sono proprio speciali sono proprio diversi dai soliti biscotti e ora siamo pronti per la parte tocco finale diana il tocco finale aspetta eh e su alcuni mettiamo anche della granella di mandorle gli alcuni sarebbero i miei giusto ma sì poi vedremo ragazzi che vi devo dire sono una meraviglia uno spettacolo bellissimi vero e adesso arriva la parte più bella la parte più bella l'assaggio quindi non aspetto altro no vabbè buonissimo buonissimo